Ciao carissimi, adesso si parla molto dei bombardamenti che la Russia sta effettuando sul territorio ucraino i nostri giornalisti, il nostro mainstream diffonde le informazioni abbastanza dubbiose ma soprattutto perché ai giornalisti nostri manca molto l'aspetto professionale cioè non capiscono niente delle armi che vengono utilizzate, non approfondiscono spesso rimangono attratti più che altro da quelli che sono i risultati del bombardamento e non dalle dinamiche nei quali esso avviene volevo raccontarvi in due parole cosa è questa strategia russa cosa loro usano, che tipo di missili e apparati, droni loro utilizzano ma soprattutto qual è la loro strategia intanto i russi dall'inizio hanno capito una cosa importante è che l'Ucraina ha gestito in maniera veramente sciagurata e anche irresponsabile la strutturazione o strutturamento dei propri forze antiaeri qual è l'errore hanno fatto gli ucraini hanno sparpagliato i mezzi di antiaeri su varie linee di fronte giustamente per contrastare quella che è l'aviazione russa sul fronte lasciando le loro città presso poco scoperte ma sul fronte cosa è accaduto? siccome gli antiaeri se sono poche e tu questi mezzi li dividi e li metti su varie parti, varie linee di fronte questi se sono 5 o anche al massimo 10 su una direzione non fanno alcun effetto queste devono essere delle batterie di antiaerea con sistemi di locazione che lavorano tutti insieme in sincronia che devono dare tutto quadro completo di tutta linea di fronte quindi un'unica mappa che legge in tempo reale gli spostamenti degli aerei che come il cervello manda poi il comando a ogni batteria di antiaere che si trova nella zona vicina più vicina dove si sposta l'aereo e da lì subito parte il missile così funzionerebbe in perfezione in maniera classica il lavoro di sistema antiaereo però siccome gli ucraini hanno pochissimi mezzi di antiaereo e sono anche anticati e poi non sono strutturabili in un unico sistema perché magari i sistemi di locazione ci hanno i sovietici poi hanno ricevuto i sistemi di antiaereo tedeschi che però non riescono ad essere integrati nello stesso sistema di locazione sovietico quindi sono singoli loro sono obbligati a lavorare prendendo le informazioni da sistemi di locazione che stanno fuori oppure hanno un loro sistema di locazione che però è piccola ha una lettura molto stretta di zona d'azione quindi se arriva un aereo da non so da 120 km questi non lo vedono lo vedono solo un fascio ad esempio di 30 o un massimo di 50 km e quindi sono molto limitati questi sistemi gli ucraini li hanno sparpagliati nei vari parti del fronte e lì cosa è successo che molti di questi sistemi sono stati danneggiati dai russi bruciati proprio eliminati perché subito in qualsiasi guerra la statistica della guerra prima cosa che viene abbattuta sono i sistemi della difesa quindi l'antiaereo è uno dei sistemi della difesa per cui tra prime cose ai quali hanno dato caccia gli aerei russi all'inizio di questa guerra erano questi sistemi di radiolocazione e di antiaereo se vi ricordate io ho postato sul mio telegram dei video quando gli ucraini militari raccontano come sono stati demoliti e distrutti i loro sistemi di antiaereo uno di questi ragazzi racconta proprio come lui lavorava presso un sistema di radiolocazione improvvisamente lui lo ha ripreso sul video come arriva l'aerio russo e parte il missile demolisce questo sistema di radiolocazione in meno di 10 secondi e tutta la storia è finita questo sistema di radiolocazione tra l'altro è un sistema americano fornito dagli Stati Uniti d'America all'esercito ucraino quindi così in questo modo sul fronte i russi hanno demolito la gran parte dei sistemi di antiaerea ucraina e le città sono rimaste ovviamente scoperte perché nelle città non ci sono i sistemi seri sono pochissimi sono anticati ci sono sistemi ancora sovietici ci sono sistemi book che sparano i missili di antiaerea poi ci sono adesso hanno fornito alcuni sistemi tedeschi comunque il problema degli utilizzi di questi sistemi in città sono legati proprio al pericolo che hanno i missili di antiaerea per le strutture cittadine da noi i nostri giornalisti non dicono ma in realtà la gran parte delle distruzioni che noi abbiamo visto nelle immagini nelle città ucraine soprattutto a Kiev non sono avvenuti per via dei missili russi ma sono avvenuti dai missili ucraini dai missili di antiaerea ucraina che non riuscendo a battere i missili russi colpivano cadevano colpivano vari posti varie zone anche residenziali della capitale ucraina questo tra l'altro adesso sta avvenendo anche in questi giorni è proprio è stato anche filmato registrato io sul mio canale telegram ho pubblicato video di diverse città c'è una c'è un video di Odessa dove il missile di antiaerea sale in aria cambia la traiettoria e colpisce la città l'hanno ripreso i stessi abitanti della città e si vede è palese agli occhi di tutti anche perché cari amici bisogna ricordare che i missili che utilizzano gli ucraini sono abbastanza vecchi i missili in sé possono essere danneggiati e può capitare sì che quando questi tipi di missili vengono utilizzati nelle città cadano poi nei palazzi nei posti dove vive la gente cosa hanno fatto i russi sapendo che comunque qualche mezzo di antiaerea c'è in varie città i russi hanno iniziato a colpire soprattutto con i droni con i droni detti kamikaze c'è un drone c'è un drone che si chiama geran geran 1 geran 2 che sono i droni di produzione iraniana poi ci sono adesso nuovi droni di produzione iraniana che sono stati forniti alla russia questi droni costano poco i russi li comprano da iran facendo scambio quindi alla russia costano veramente pochissimo a loro è comodo comprare questi droni in grande quantità lanciarli da vari supporti anche dalle navi questi droni volano volano abbastanza lentamente hanno una grande autonomia e riescono a colpire poi precipitano sull'obiettivo come un qualsiasi missile e portano comunque creano un grande danno perché un drone porta 50 kg di materiale esplosivo che è notevole infatti a Kiev di recente abbiamo visto tra l'altro un militare ucraino lo ha affermato io nel mio canale telegram ho condiviso la sua intervista che è passata pure sulla tv ucraina dove questo militare racconta e dice guardate noi abbiamo cercato di abbattere il drone con i fucili in realtà non abbiamo abbattuto il drone ma abbiamo cambiato semplicemente la sua traiettoria e lui cambiando la traiettoria è precipitato in un palazzo civile e ha ucciso la gente quindi lì è successa una tragedia poi magari se non lo abbattevano lui continuava il suo volo e faceva esplodere un deposito di carburante dell'esercito ucraino oppure una centrale elettrica non lo so quindi lì sono loro che decidono i difensori dell'Ucraina se vale la pena abbattere il drone e poi sacrificare i cittadini della città perché drone è abbattuto da qualche parte deve cadere nell'aria non esplode oppure lasciarlo colpire la stazione elettrica insomma queste sono difficili decisioni che devono prendere i militari ucraini adesso in fondo comunque dopo lunghi anni dei bombardamenti che l'esercito ucraino ha fatto sui territori del Donbass adesso anche loro ci provano sulla propria pelle cosa significa vivere nella paura quando dall'aria ti cade sulla testa una bomba la cosa che io non auguro a nessuno è veramente una cosa terribile mi dispiace per loro i russi hanno utilizzato questa strategia loro hanno mandato prima i droni che costano poco gli ucraini hanno utilizzato su questi droni il fuoco di tutto il fuoco di loro antiaeree che avevano pensando che avevano affrontato la prima questa grande ondata insomma dei bombardamenti russi però dopo russi hanno mandato i missili che costano di più e che portano più sistemi più esplosioni più potenti quindi sono arrivati i vari missili importanti su obiettivi importantissimi e l'Ucraina non era pronta il fuoco di artilleria antiaerea è mancato totalmente quindi tutti questi missili sono andati totalmente a colpire i loro obiettivi e lì non ci sono state vittime collaterali lì abbiamo visto che è stato un lavoro chirurgico ogni missile ha colpito le infrastrutture critiche dell'Ucraina lasciandoli senza luce senza insomma carburante colpendo i snodi ferroviari colpendo i depositi delle armi colpendo anche le brigate militari le basi e così via per cui il senso dell'attività russa è quella di prima mandare questi droni che costano poco e così lo fanno e mentre i sistemi di difesa si concentrano su questi loro mandano sopra i missili più pesanti più distruttivi e in questo modo i difensori ucraini sono affaticati non riescono a battere tutto insieme così sono in difficoltà qua bisogna ricordare di nuovo queste bagianate che raccontava il consigliere del presidente Zelensky che si chiama Aristovich che ancora in primavera a maggio a giugno diceva ma noi non vedremo mai il giorno in cui i russi saranno in grado di lanciare allo stesso momento più di 40 missili cari amici qua siamo di fronte a un'escalation molto seria i russi adesso hanno portato sul fronte anche i sistemi di lancio che si chiamano Iskander questi sono sistemi missilistici molto seri molto importanti riescono a lanciare in maniera molto veloce missili balistici di grande portata e tra l'altro su questi missili possono essere montati anche testate nucleari tattici io spero che non avverrà mai questo giorno ma giusto per far capire che i sistemi comincino a usare i russi sul fronte questi sistemi ci sono già in Ucraina io nel mio telegram ho condiviso i video dove ci sono questi sistemi dove si racconta come funziona si fa vedere come funziona si fanno vedere anche come fanno i lanci dei missili che partono per colpire vari obiettivi di infrastruttura critica in Ucraina quindi noi siamo di fronte a un escalation della guerra i missili verranno lanciati sempre di più e soprattutto recentemente il nuovo generale che ha arrivato al comando delle forze russe in Ucraina recentemente ha dichiarato ha fatto la sua dichiarazione che un po' farà brividire ma ci fa capire quale sarà la strategia dei russi in Ucraina il generale ha detto questo generale ha detto noi non abbiamo bisogno di sacrificare le vite dei nostri soldati sul fronte ucraino perché noi abbiamo tutti i mezzi tecnologici per poter mettere in ginocchio l'Ucraina in pochi mesi per cui il senso del suo discorso è questo noi abbiamo tecnologia per mettere in ginocchio tutta l'Ucraina quindi per questo non bisogna aspettare che i russi arriveranno con le forze fisiche come ci è stato prima quando non si voleva distruggere l'infrastruttura quando si voleva risparmiare la vita ai cittadini quando si voleva risparmiare l'infrastruttura dell'Ucraina adesso tutto questo è stato messo da parte adesso i russi hanno cambiato la loro strategia e per questo utilizzeranno sempre più missili ci saranno sempre più bombardamenti e io temo che in Ucraina molto presto le persone vivranno un vero inferno senza luce senza gas senza acqua questo sarà come catapultarsi veramente nel medioevo per la popolazione ucraina per questo mi dispiace molto ma fa parte comunque di una terribile guerra che bene o male tutti sapevano in che direzione sta andando e io spero solo che questa cosa finisca in fretta che le parti che partecipano a questa guerra troveranno al più presto l'accordo soprattutto Stati Uniti d'America e la Russia troveranno un accordo e tutta questa situazione finisca in fretta senza più vittime senza più morti da ambele parti carissimi grazie per essere stati qui con me io vi invito di seguirmi sul mio facebook instagram youtube su youtube mettete pollice in alto campanellino così vi arrivano le sinalazioni quando io carico nove video e per informarvi con materiale quotidiano che io metto su sul mio canale telegram vi invito a iscriversi al mio canale telegram lì c'è tutto quello che io non posso pubblicare negli altri social per motivi di censura quindi se volete essere informati su quello che succede in guerra vedere i video in diretta vedere che tipi di armi vengono utilizzati sentire le interviste dei militari di vari paesi che partecipano a questa guerra vedere i video delle battaglie video delle esplosioni vedere come funzionano gli armamenti seguire quello che dicono i politici tutto questo io pubblico nel mio canale telegram quindi iscrivetevi per favore non rimanete disinformati grazie cari amici vi mando un forte abbraccio grazie per essere stati qui con me